Quell'italiano comincia a preoccuparmi. Questo disse Alfred Hitchcock, maestro del trilling, dopo aver visto il primo film di Dario Argento. Quel film capolavoro era L'uccello dalle piume di cristallo. È Dario Argento, il regista che ha aperto una nuova dimensione sul mondo angoscioso della paura. Dario Argento Mi racconti tutto, eh? Tutto che... Beh, è quello che è successo. Vorrei sapere tutto quello che ha visto e che ha sentito. Monique, lasciatemi, sono suo marito! Monique, parla. Cos'è successo? Monique, cara, cos'è stato? Cosa? Cosa? Ho visto qualcosa di strano. Solo un'impressione. Non riesco a metterla a fuoco, ma nel mio ricordo c'è un particolare che non quadra. Ma calma! No, invece. Lui non è neppure italiano e lei gli fa rischiare la vita. Hanno già cercato di ammazzarlo, non lo sa. Giulia! Che cosa le fa pensare che non ci riproveranno? Salvatemi! Non resisto! Non resisto! Lei non uscirà viva da questa casa. ... ... ... Grazie a tutti.